Grazie Presidente, buon pomeriggio ai rappresentanti del Governo. Noi salutiamo con favore la futura nascita di questa Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori e degli utenti. Il relatore ha ben espresso quelli che saranno gli intendimenti della Commissione e la collega Calabria ha sottolineato alcuni aspetti, ma ce ne sono anche molti altri. Sinceramente abbiamo espresso apprezzamento e lo ribadiamo oggi in quest'Aula perché effettivamente la nostra legislazione a tutela e a garanzia dei consumatori e degli utenti è datata non dal punto di vista del numero degli anni, ma purtroppo l'accelerazione tecnologica che c'è stata nella somministrazione di beni e servizi è stata così forte negli ultimi anni, pensiamo allo sviluppo delle piattaforme digitali e anche a tutta l'evoluzione del mondo del commercio che ci rende necessario essere vigili per essere al passo nella tutela dei consumatori. La quantità di beni e servizi che vengono vendute quotidianamente, non più diciamo in forma tradizionale, quindi sottoscrivendo un contratto, ma come diceva la collega, semplicemente accettando con un click una serie di pagine che molto spesso, forse troppo spesso, vengono fatte scorrere velocissimamente sul nostro telefonino per la volontà di arrivare in fondo il prima possibile, poi rendono di fatto illegibile quello che stiamo accettando. E questo è uno dei grandi temi perché le grandi piattaforme digitali, e lo dirò anche dopo nel corso del mio intervento, spesso ci offrono dei servizi che vengono dichiarati gratuiti, ma in realtà poi gratuiti di fatto non sono, perché l'utilizzo patrimoniale dei dati personali di fatto è non li rende gratuiti. E questa ormai è una teoria che si va consolidando sempre di più, per cui la necessità di immaginare il trattamento dei nostri dati personali non come una concessione, ma come una patrimonializzazione, per cui immaginare i dati personali come attività immateriali, di fatto rende palesa che spesso questi servizi offerti non sono appunto, come dicevo prima, servizi gratuiti, ma sono servizi che vengono ceduti in cambio di un corrispettivo dove il corrispettivo è proprio l'utilizzo dei dati personali. E allora, dicevo, si rende necessario indagare, controllare, verificare, tutelare appunto i nostri consumatori, perché lo sviluppo di tutte queste piattaforme, dei social, l'utilizzo di questi servizi, soprattutto rispetto a una fascia della popolazione, che è quella anche degli anziani o di quelli che hanno meno di mistichezza con questi beni, rende queste fasce di fatto più vulnerabili rispetto a possibili truffe o rispetto a possibili, diciamo, aggressioni commerciali non propriamente corretti. Questa è una delle necessità. Ma un'altra necessità evidente è quella della maggiore tutela da parte dei consumatori e degli utenti. Pensiamo solamente a quello che è successo all'inizio e, diciamo, per un buon periodo di tutta la pandemia. Beh, i consumatori, rispetto a un bene essenziale, come quello delle mascherine, perché le mascherine erano un bene superfluo o comunque non valorizzato, il cui valore era zero, pensiamo solamente come sono stati trattati i consumatori rispetto a beni, questo lo diceva anche la Merkel in Germania, si apre l'era delle pandemie ed è necessario che anche i consumatori siano tutelati rispetto a beni che diventano improvvisamente essenziali. Per cui noi abbiamo dato mano libera a un signore che si chiamava Arcuri di poter gestire come voleva questa situazione, ponendo e utilizzando soldi pubblici e non invece andando a tutelare i consumatori che invece si sono visti costretti ad acquisire in gran numero questi beni senza nessun tipo di tutela, perché l'hanno dovuto di fatto pagare cifre che non avevano nessuna proporzione. Altra necessità è quella di indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette, con riferimento alle clausole vessatorie. Lo dicevo prima in premessa, immaginiamo solamente la velocità con cui scorriamo tutte le schermate dei contratti che accettiamo in forma digitale. È chiaro che le clausole vessatorie richiederebbero un'attenzione diversa, richiederebbero di essere poste in mania diversa, perché altrimenti in questo modo sappiamo che nella contrattualistica tradizionale la clausola vessatoria richiede la doppia firma, ma se acceleriamo con un clic tutto lo spirito che è quello di porre maggiormente l'attenzione su situazioni di particolare sfavore per chi firma un contratto, si va a perdere. E andando avanti ancora all'utilizzo improprio, quello che dicevo prima, dei dati personali da parte delle grandi piattaforme del web, piattaforme che realizzano utili ormai inimmaginabili, che troppo spesso questi utili vengono mascherati all'estero. Adesso, per fortuna, noi come Fratelli d'Italia, all'inizio di questa legislatura, proprio a prima firma del collega Zucconi, avevamo presentato una proposta di legge sulla web tax per far sì che questi grandi colossi non sfuggissero alla tassazione nascondendosi nei paradisi fiscali. Poi, per fortuna, adesso pare che stiamo arrivando con l'accordo di tutti a una tassazione minima del 15%, che dovrebbe consentire di redistribuire ai singoli Paesi delle risorse che verranno appunto drenate da questi paradisi fiscali per essere redistribuite sui singoli Paesi. Leggevo proprio ieri sul Sole24ore, che in uno studio rispetto all'Italia si ipotizza che potrebbero tornare nel nostro bilancio circa 3,2 miliardi di euro che dovrebbero arrivare appunto a corrispettivo della tassazione su questi grandi piattaformi. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere una proposta, pensare di utilizzare queste risorse proprio per la tutela e il risarcimento dei consumatori e degli utenti che vengono danneggiati in alcuni casi da queste grandi piattaforme. Altro elemento importante per la nascita di questa Commissione, lo poneva il giusto accendo la collega a Calabria e quella della qualità dei servizi pubblici essenziali. È fondamentale. Ci sono tantissimi pubblici e servizi che vanno dai trasporti, ma io ricorderei anche le poste, le telecomunicazioni, l'informazione radio televisiva, che necessitano veramente di maggiore attenzione. Ci sono servizi che vengono dati, diciamo in appalto, in concessione, a delle aziende che poi non tutelano il servizio minimale. Io vorrei ricordare solamente i servizi di collegamento con le isole, che troppo spesso arrivano poi a non essere più un servizio pubblico. E quindi nella tutela del giusto diritto dell'impresa a generare profitto si perde però di vista la natura del servizio pubblico che deve garantire l'utente. Su questo la Commissione dovrà essere brava a vigilare, perché bisogna garantire la qualità, non solo la quantità del servizio pubblico, ma la qualità del servizio pubblico. È troppo spesso, e questo lo vediamo, soprattutto dove questi servizi sono affidati appunto in una sorta di regime di monopolio, la qualità dei mezzi utilizzati è devastante. Autobus che si incendiano, navi che fanno acqua da tutte le parti, per cui situazioni che non sono più tollerabili. È giusto generare profitto, ma è altrettanto giusto investire nella sicurezza dei mezzi, perché gli utenti hanno diritto ad avere un servizio di qualità. Altro motivo, monitorare lo stato di attuazione della legislazione. Quello e noi altrettanto velocemente dobbiamo monitorare che lo stato di attuazione della legislazione in materia dei diritti vada abbastanza alla stessa velocità. Non solo. Dobbiamo essere bravi anche a monitorare che l'efficacia del sistema sanzionatorio, e questo è uno dei motivi per cui nasce la Commissione sia efficace e sia valido. Immaginate che oggi ci sono situazioni in cui un utente, mi riferisco per esempio rispetto agli istituti di credito o anche agli istituti finanziari, se un utente chiede informazioni su un mutuo o la sospensione di un mutuo, l'Istituto ha la possibilità di rispondere in sei mesi. È evidente che questa non è una tutela dell'utenza, è evidente che questo pone in una situazione di assoluto svantaggio, per cui il sistema sanzionatorio deve diventare efficace, perché altrimenti la tutela è di fatto nulla. Altro motivo è quello che dicevo prima, la patrimonializzazione dei dati personali. A questo dobbiamo arrivare, perché l'utilizzo dei dati personali, che è stato contrastato in un certo senso da alcune teorie di antitrust o di tutela della privacy, in realtà di fatto sono superate. Oggi i dati personali vanno preservati perché sono in realtà un vero e proprio asset. Sono un asset perché costituiscono informazioni fondamentali per promozioni commerciali e quindi vanno preservati in questo senso. Siamo di fronte in alcuni casi a dei paradossi. Pensiamo che nel pieno della pandemia ci siamo posti il problema della privacy o della tutela dei dati personali rispetto a motivi sanitari, quindi gravissimi, e poi quotidianamente invece i nostri dati personali vengono utilizzati da piattaforme che ci asfissiano tutti i giorni con migliaia di telefonate per la bolletta del gas, della luce o del telefono. Quindi da questo punto di vista credo che sia veramente fondamentale riuscire a trovare un equilibrio e lo stesso equilibrio dobbiamo trovare anche nella chiarezza perché ora parlavo di bollette ed è il tema del caro vita in questo momento, del rincaro delle bollette, del rincaro delle utenze rispetto a chi le deve subire passivamente e non ha neanche la capacità di poterlo capire perché le bollette sono un enigma. Nonostante noi chiediamo costantemente chiarezza, trasparenza, eccetera eccetera, leggere una bolletta di un'utenza telefonica da noi è veramente impossibile. La gente non capisce se paga per un servizio o se paga invece per che cosa, perché la bolletta è sempre enigmatica, è sempre difficile ed è di difficile comprensione. Per cui per tutti questi motivi noi auspichiamo che ci sia, come dicevano anche gli altri colleghi, un consenso importante dell'Aula per arrivare a questa commissione di inchiesta. Grazie.